E' partito da Ancona il nuovo tour di Giorgia, ne l'abbiamo incontrato. L'ansia, insomma, si fa sentire, ma è giusto che sia così, deve essere così. Giorgia, con la sua voce unica, vola in tour nei palazzetti più importanti d'Italia. E' partita da Ancona, trascinando tutti nel suo mondo di note. In scaletta i successi di ieri e le cover di oggi, tante date e una sola mappa, quella del cuore. Il suo, non a caso, è il Pop Heart Tour e Giorgia, come Cupido, ha mille frecce al suo arco artistico. Due ragazzi, erano, mi si sono sposati, ascoltando, in comune, ascoltando la mia canzone. Eh, beh, quindi... E io, tante, ho detto, oh, vi dovete amare per tutta la vita, perché se no, eh... Qui è la Giorgia di Sanremo di tre anni fa e qui invece è la Giorgia del video di una canzone che si chiama La mia stanza. Brani senza tempo e schermi ipertecnologici passato e futuro si saldano sul palco catturando tante emozioni. Grazie!